Se state avendo problemi riguardo a usare il controller su Call of Duty, qualsiasi Call of Duty che state usando o che avete scaricato e installato sul vostro computer attraverso la piattaforma Steam, fortunatamente visto che lo teniamo su Steam, su Steam ci offre veramente moltissime cose per abilitare il controller e installare anche dei driver. Quindi in questo caso vai direttamente su Steam qua sopra, vai su Impostazioni, ti porterà così questa schedina qua, tu scendi fino a giù fino a trovare il controller ed eccoci qua. Poi anche driver di supporto funzionalità estesa Xbox, se invece stai usando un controller Playstation ti dirà Playstation e installi così driver Playstation. Il pulsante guida mette Steam in primo piano, abilità Steam Input per i controller Xbox da metti attivo, supporto per i controller Playstation da attivo nei giochi senza sopporto metti attivo, se sta su non attivo il controller non andava quindi metti attivo. Spegni i controlli quando esci dalla modalità Big Picture, questa modalità qua ti può anche aiutare quindi vai direttamente su Visualizza e entriamo così nella modalità Big Picture. Una volta fatto io vado ad abilitare quindi vado ad collegare il mio controller, clicco qua sopra, vado su controller qua, layout ufficiali per Call of Duty, modifica layout oppure mostra layout. Questo è il layout che uso sul controller e qui modifica layout, puoi modificare i tasti, se no se clicchi qua sopra, layout, layout della comunità. Qua tu puoi scaricare e installare il layout, quindi i layout più scaricati e più giocati, tipo questo qua in totale ha un 239.000 ore di gioco e sicuramente non hanno avuto problemi. Download in corso ed eccolo qua. Ho scaricato così questo layout e applico il layout sul mio controller e ci ho messo questo. Ed eccolo qua, l'ho attivato indietro e il controller funziona. Se non dovesse funzionare chiudiamo un attimo questa modalità Big Picture, quindi andiamo sul menu e esce dalla modalità Big Picture. tasto verso su Start, gestione dispositivi, periferiche, controllo Xbox, aggiorniamo il driver, circa il driver nel computer e lo installiamo. Siamo avanti, installa e poi una volta installato devi riavviare il sistema. Quindi anche se hai installato i driver su Steam, come ti ho detto dove stava proprio la parte installa i driver, tu scarichi e installa i driver là sopra, scarichi i driver e installa qua sopra anche su gestione dispositivi e poi riavvia il sistema. Ed eccolo qua, riavviare il computer ora. Una volta fatto scrivi qua sopra controller, configurare dispositivi di gioco USB, controller, avanzate ed eccolo qua. Ci metto controller e faccio ok. Faccio proprietà ed ecco qua che testo il mio controller e funziona perfettamente. Se invece stai usando un'applicazione, quindi se stai usando un controller PlayStation, c'è l'applicazione che si chiama PlayStation Accessories, che ti ho lasciato in descrizione, tu scarichi e installi così questo software, come puoi vedere, connetti il tuo controller o attraverso il cavo USB o Bluetooth, quindi prova uno di questi metodi qua. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.